Io sono Italandia, core della titolo è come sarebbero, ovvero prendo le foto delle gerbilità e l'emolifico. Quindi cominciamo. I nonni. Anna Falky sempre perfetta anche da nonna, anche Anna Mena, anche che non fanno una supernonna. Cambio sesso. Niente male Anna Falky da uomo, eh? Niente male fatto. Anche Anna Mena da uomo. Il gioco dei figli. Guarda che bel giovane. Anche la figlia di Anna Falky sempre per gioco. Anche i figli di Anna Mena sempre per gioco. Poi guardate lei, guardatela. Bene, questo video si chiude qui. E anche se vostra vita è grigia, solidete perché avete una vita sola. Ciao! Ciao!